Tu che sei nato dalla Vergine, abbi pietà di noi O Dio Santo, O Dio forte, O Dio in mortale Tu che sei stato procidato per noi, abbi pietà di noi O Dio Santo, O Dio forte, O Dio in mortale Tu che sei resuscitato ed asceso al cielo, abbi pietà di noi Grazie a gloria al Padre, al Filio e al Espirito Santo Ora e sempre in secoli dei secoli e ameno santa trinità Abbi pietà di noi Niel Barakao Salaam Ligami Aiko Vali Ruhi Kaida Signore Jesus Cristo Nostro Dio Candito Dio Sant'Aposte Messagiri Sessama Kya Numerose Beruffete Domini Giustano Zerato Vedele Choco Vedele Non ho visto Ed hanno deserato dire ciò che voi dite Non hanno dito E ciò piate sono le vostre occhi Perché vedono piate le vostre ore Perché odono Prendici bene per le preghiere Dei tuoi santi apostoli Asportare e osservare E il tuo santo Vangelo Signore abbi Pietà Ricordati Signore Tutto cloro Potremmo Non ho comandato Per dargli Nelle preghiere Signore Signore Nostro Dio Conxidro Vosa Immorti La guarigione All'infermi Poi Keber Tutti Noite Nostro Dio 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 E' nostro re, Gesù Cristo, figlio del Dio, venti sia a lui l'eterna gloria, per l'eterno, amè, alzati quindi gli occhi. Gesù vede che una grande folla veniva da lui, e disse a Flippo, dove possiamo comprare il pane, perché costoro abbiamo da mangiare. Gesù diceva così per metterlo alla prova, e lì, infatti, sapeva bene quello che stava per fare, gli rispose Flippo. Docento dinari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. E lì disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, e c'è qui un ragazzo, che ha cinque pae di orso e due pesci. Ma che così, questo per tanta gente, rispose Gesù, fatele sedere, e c'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque, ed erano circa cinquimila uomini, allora Gesù prese i panni, e dopo aver reso grazie, li disturbiò quelle che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli, raccoliti e pezzi avanzati, perché non l'avadi perduto, li accolsero, e riempirono duecenti, canestri con i pezzi, dei cinque pane di orso, affanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, fai visto il segno che l'aveva compiuto, cominciò a dire, questo è davvero il profeta, che deve venire nel mondo. E che deve venire nel mondo. andiamo ilaia c'è l'holla o'enna m'a l'haza l'yemtahinahoo l'annoo k'an ma ho mizmah an'yafahal agab fi l'ubbus la yafi un khubz bimaitai dinaar li'achos كل واحد منهم شيئا yasiran قال له واحد من tlamizohan draus a khusimahana budros yugad huna gulamma o'chamsa tarrhifat shairin wasmaketan ولكن كيف يكفي هذا المقدار لمثل هؤلاء الجمهور فقال يسوع اجعل الناس يتكون وكان يوجد في ذلك المكان عشب كثير فاتك الرجال وعددهم نحو خمسة الافين واخذ يسوع الارغفة وشكرا وعطى التلميذ والتلميذ وعطى المتكين وكذلك ايضا من السماء بقدر ما شاء كل واحدين فلما شمعوا قال لتلميذه اجمعوا الكسر الفاضل لكي لا يضيعوا شيء منها فجمعوا من الفضلات وملوا اسنتعشر قفة من الكسر من خمسة رغفة الشعير التي فضلت عن الاكلين فلما رأى الناس الايات التي سنعيسوا قالوا ان هذا وبالحقيقة النبلات الى العالمين والمكدو لله دائما اجمعوا 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 الى العالمين دائما رغفة الشعير اجمعوا الريس طرم nella quinta settimana, nella lettura messali. E per far ricordarci di questi appunti, il primo punto. Il nostro Re, Gesù Cristo, è misericordioso con tutta la folla e parla con loro del Regno di Dio e guarire quante avevano bisogno di cura. Ed anche non voleva lasciare la folla senza mangiare, ma ha ordinato ai discepoli di dare a loro di mangiare perché c'è scritto nella Bibbia c'è chi allargheggia e la sua ricchezza aumenta. La misericordia è un fatto importante e noi dobbiamo farlo perché c'è scritto piedi misericordiosi perché troveranno misericordia. La folla erano cinque mila e più le donne e i bambini e era un posto deserto. Ma per insegnare la folla, le ordini e anche il sistema, Gesù disse ai discepoli, fattele sedere per gruppi di cinquanta. Perché c'è scritto, perché Dio non è Dio di disordini ma di pace. Con la sua potenza era capace di dare a tutti loro da mangiare senza mediatori. Però è ordinato ai discepoli, date voi stessi da mangiare. Da questo versetto ci mostra a noi il sacerdozio e la sua responsabilità nella nostra Chiesa. Il Santissimo Cristo ha dato ai discepoli questo impegno e questa responsabilità di servir i fedeli. E loro consacrato i vescovi, i vescovi hanno consacrato i presbiteri e i diaconi per far crescere la fede sulla terra. L'altro punto, il poco nel meno del giusto sarà benedetto. Perché c'è scritto, la benedizione del Signore arricchirsi non aggiunga nulla la fatica. Erano cinque pani e due pesci. Però quando ha messo nei suoi mani diventano molti e lo mangiarono e sessiarono. La moltiplicazione è una parte della benedizione. Perché se non benediciamo il Signore, come si dice la Bibbia, avete mangiato, ma non anche togliervi la fame. Noi, Signore, ti lo diamo, ti benediciamo con tutto il cuore nei secoli di secoli. Amén. Amén. grazie a tutti 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 grazie a tutti